ciao ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi vi parlerò dell'ultima mia realizzazione questa chevrolet chevel wagon del kit amt e rtl in scala 1.25 allora iniziamo a parlare di questo modello che ho costruito che ho realizzato convertendo l'appunto in ambulanza partiamo dal fatto che questo kit non era nuovo le stampate dovevano essere se non sbaglio fine anni 80 inizio anni 90 e convertirlo non è stato facile non è stato facile perché perché la plastica di questo kit è abbastanza e poco spessa e quindi molto morbida e ha richiesto un ulteriore lavoro di stuccatura di fondo soprattutto per la parte superiore il tetto che ho realizzato con il plasticard fra l'altro aveva il plasticard leggermente anche questo meno spesso più fino del solito e quindi ho dovuto lavorare parecchio ho dovuto dare dello stucco alcune modifiche però diciamo che sostanzialmente è venuto fuori un bel lavoro per quanto riguarda la colorazione la colorazione di questa ambulanza siamo come realizzazione del modello sull'ambulanza originale a fine anni 60 inizio anni 70 per la precisione questo kit con la scritta rescue è del 1977 mi manca solamente l'adesivo della regione di appartenenza o meglio la decals ma siccome non ce l'avevo e non non potevo stamparla adesso ho preferito assemblare il tutto utilizzare delle decals che avevo in magazzino di un altro kit che non ricordo se fosse revel o appunto lo stesso amt e comunque ritagliato ed ho modificato applicandolo su questa bella che faccio una panoramica del modello siccome la parte laterale è con il vetro laterale appunto aperto possiamo intravedere la barella all'interno con il seggiolino per il soccorritore facciamo un giro del posteriore del modello eccolo qua adesso ripeto devo aggiungere solamente le targhe ed il simbolo d'appartenenza che stamperò appunto come decal come adesivo e introdurrò lo applicherò sulla sull'autovettura sono abbastanza soddisfatto di questo lavoro anche perché i lampeggianti la sirena sono tutti i kit che ho raccimolato tutti i pezzi che ho raccimolato da vari kit alcuni ovviamente li ho realizzati artigianalmente così come la sirena a fischio vicino all'antenna con il trasparente blu stessa cosa dicasi per i lampeggianti laterali e quelli a pinna sul tetto ok ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto io vi ringrazio tanto per le visualizzazioni e soprattutto per i like vi auguro una buona giornata al prossimo video fra l'altro cercherò di parlare anche di altri tipi di modelli e non solo di ambulanze perché diciamo ho qualcosa da fare di nuovo andremo anche a toccare il tema star trek per ogni singolo modello ma vi spiegherò appena possibile ciao e grazie ancora